la sfinge è come dire mi sono trovata davanti questo monumento fantastico però con un grande imbarazzo perché fotografare un monumento che è stato fotografato dall'ottocento in poi migliaia e migliaia di volte non è semplice non è semplice trovare il proprio punto di vista raccontare anche le emozioni personali che un luogo suscita quindi mi ha molto colpito perché arrivando dal cairo io immaginavo che la sfinge le piramidi fosse un luogo lontano come un po isolato dalla città invece non è così tu arrivi questa strada che è di grande percorrenza e subito la tua destra trovi la sfinge dall'altra parte c'è la città gli islam di del cairo e questa cosa mi ha davvero colpito ed è come se questo monumento così imponente così misterioso ma con una presenza così forte rappresentasse quasi una protezione per la città la sfinge guarda la città ed è come se la tenesse sotto controllo la proteggesse le volesse bene grazie a tutti grazie a tutti